Dal libro di Giobbe Giobbe presa dire al Signore Comprendo che tu puoi tutto e che nessun progetto per te è impossibile Chi è colui che da ignorante può oscurare il tuo piano Davvero ho esposto cose che non capisco cose troppo meravigliose per me che non comprendo Io ti conoscevo solo per sentito dire ma ora i miei occhi ti hanno veduto Perciò mi ricredo e mi pento sopra polvere e cenere Il Signore benedisse il futuro di Giobbe più del suo passato Così possedette 14.000 pecore e 6.000 cammelli mille paia di buoi e mille asine ebbe anche sette figli e tre figlie Alla prima mise nome Colomba Alla seconda Cassia Alla terza Argentea In tutta la terra non si trovarono donne così belle come le figlie di Giobbe e il loro padre le mise a parte dell'eredità insieme con i loro fratelli Dopo tutto questo Giobbe visse ancora 140 anni e vide figli e nipoti per quattro generazioni Poi Giobbe morì vecchio e sazio di giorni Mostrami Signore la luce del Tuo volto Insegnami il gusto del bene e la conoscenza perché ho fiducia nei Tuoi comandi Bene per me se sono stato umiliato perché impari i Tuoi decreti Mostrami Signore la luce del Tuo volto Signore io so che i Tuoi giudizi sono giusti e con ragione mi hai umiliato Per i Tuoi giudizi tutto è stabile fino ad oggi perché ogni cosa è al Tuo servizio Mostrami Signore la luce del Tuo volto Io sono Tuo servo Fammi comprendere e conoscerò i Tuoi insegnamenti La rivelazione delle Tue parole illumina Dona intelligenza ai semplici Mostrami Signore la luce del Tuo volto Dal Vangelo secondo Luca In quel tempo i settantadue tornarono pieni di gioia dicendo Signore anche i demoni si sottomettono a noi nel Tuo nome Egli disse loro Vedevo Satana cadere dal cielo come una folgore Ecco Io vi ho dato il potere di camminare sopra serpenti e scorpioni e soprattutto la potenza del nemico Nulla potrà danneggiarvi Non rallegratevi però perché i demoni si sottomettono a voi Rallegratevi piuttosto perché i vostri nomi sono scritti nei cieli In quella stessa ora Gesù esultò di gioia nello Spirito Santo e disse Ti rendo l'odio Padre Signore del cielo e della terra perché hai nascosto queste cose ai sapienti e ai dotti e le hai rivelati ai piccoli Sì o Padre perché così hai deciso nella Tua benevolenza Tutto è stato dato a me dal Padre mio e nessuno sa chi è il Figlio se non il Padre né chi è il Padre se non il Figlio e colui al quale il Figlio vorrà rivelarlo E rivolto ai discepoli in disparte disse Beati gli occhi che vedono ciò che voi vedete Io vi dico che molti profeti e re hanno voluto vedere ciò che voi guardate ma non lo videro e ascoltare ciò che voi ascoltate ma non lo ascoltarono ma non lo ascoltare ma non lo ascoltare ma non lo ascoltare ma non lo ascoltare ma non lo ascoltare